Buongiorno buongiorno benvenuti a Rassegnati il podcast di Feff Academy Rassegnati siamo noi tutti a cui tocca a tutti i giorni sorbirci la propaganda e l'informazione spesso pilotata o incompetente dei nostri giornali mainstream io sono Matteo Bernabè giornalista che per Feff Academy cura la sezione informativa questa è la rassegna stampa di giovedì 2 febbraio 2023 allora partiamo come al solito dal Corriere della Sera che ancora una volta come tutti 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 gli altri giornali non solo quelli diciamo così più legati al mainstream dedicano l'apertura ancora sta roba che non frega niente a nessuno sugli anarchici cospito sfida sugli atti rivelati è il titolo del Corriere della Sera ora ditemi voi se bisogna dedicare praticamente come posso vedere io qui davanti a me un terzo praticamente della pagina un terzo che comprende ovviamente anche l'apertura e la vignetta la vignetta di Giannelli dedicata a sta roba degli anarchici robe da manicomio non ci stiamo a perdere altro tempo su questa roba perché veramente sono scandalosi e purtroppo stamani devo dire che anche il fatto quotidiano e la verità apre sempre su questa su questa storia qui ovviamente dandogli un taglio diverso rispetto agli altri giornali mainstream come Repubblica e Stampa però più o meno siamo sempre lì arma di distruzione di distrazione di massa allora invece per quanto riguarda la questione della guerra in Ucraina il Corriere riporta in prima pagina questa notizia che si trova sulla colonna di destra gli Stati Uniti pronti a inviare bombe a lungo raggio l'Unione Europea frena sul sì a Kiev gli Stati Uniti sono pronti a fornire all'Ucraina le GLSDB che sono bombe con un raggio di circa 150 chilometri frenata invece sull'adesione dell'Ucraina alla UE prima le riforme anche perché portare dentro una cosa come l'Ucraina non credo che sia molto conveniente diciamo anche perché si parla diciamo che non è conveniente portare cioè stare nell'Unione Europea insomma lo abbiamo detto in tutte le salse però portare dentro l'Ucraina probabilmente lo diverrebbe ancora meno conveniente nel senso che si parla di un paese che diciamo di fatto non è democratico anche se la stampa mainstream cerca di dipingercelo così però basta vedere la stampa mainstream quello che pubblicava precedentemente alla guerra, all'invasione della Russia in Ucraina insomma non lo nascondevano che fosse un paese tra i più corrotti del mondo sicuramente il più corrotto d'Europa se consideriamo l'Ucraina diciamo nel continente europeo come di fatto è quindi insomma bisogna insomma non è così sembrava no? vicinanza da parte di Bruxelles a Kiev eccetera in realtà poi questa vicinanza poi nei fatti diciamo non si tradurrà poi in in una vera e propria adesione insomma dell'Ucraina all'Unione Europea anche perché poi bisogna vedere se poi l'Ucraina tra qualche mese come la conosciamo oggi o come l'abbiamo conosciuta negli ultimi anni esisterà ancora insomma anche perché insomma le questioni sono chiaramente in divenire allora l'altra cosa invece sulla questione invece degli USA che sono pronti a inviare bombe a lungo raggio anche lì ci dicono ci arrivano questi annunci come al solito come tutte le volte che vengono annunciati questi invii di armi in realtà poi se andiamo a vedere se mai arriveranno questo tipo di armi arriveranno tra qualche mese tra qualche mese non sarà immediato questo invio l'altra cosa che ho selezionato sulla prima del Corriere riguarda sempre lì sulla colonna di destra riguarda la rete di Telecom Italia la rete telefonica KKR pronta l'offerta per la rete Team il fondo americano KKR ci riprova e prepara un'offerta per tutta la rete Telecom Italia il governo è già stato avvisato la proposta potrebbe aggirarsi attorno ai 20 miliardi ora su questa cosa qui il governo si era speso piuttosto diciamo in maniera piuttosto chiara su quello che avrebbe dovuto essere diciamo l'immediato futuro della rete di Telecom Italia cioè la rete aveva detto Giorgia Meloni non più tardi di un mese fa nel senso che l'aveva detto alla conferenza stampa di fine anno aveva confermato la linea che era quella di mantenere la rete la rete Telecom Italia visto che è un'infrastruttura strategica all'interno del controllo pubblico ora qui pare che arrivi questa proposta del fondo americano e se le cose non diciamo restano così diciamo che questa infrastruttura rientra all'interno del perimetro del Golden Power che sarebbe quella normativa che dovrebbe tutelare le infrastrutture le imprese strategiche eccetera italiane e quindi per l'eventuale via libera alla vendita di questa rete della rete Telecom dovrebbe essere il governo a dare il via libera finale però qui si tratta di un soggetto privato a maggior ragione un soggetto estero perché si parla di KKR che è un fondo di investimento degli Stati Uniti quindi ora vedremo vedremo cosa farà Giorgia di fronte a questo dilemma vendere agli americani o no quindi vedremo un po' come andrà questa storia l'altra cosa l'altra cosa che vabbè sul Corriere non c'è più nient'altro passiamo su Repubblica che ci dà la notizia ma solo un titoletto relativamente all'inflazione i prezzi rallentano ma l'inflazione resta alta riporta il quotidiano diretto da Maurizio Molinari ovviamente si parla in apertura anche oggi titolo a 5 colonne titolo a 5 colonne in grande apertura in alto della prima pagina giustizia assedio a Del Mastro ovviamente si parla sempre di tutti i risvolti legati alla questione cospito anarchici bla 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 vabbè passiamo sulla stampa passiamo sulla stampa ed è una cosa questa che poi riprenderemo anche sul fatto quotidiano perché si parla di sanità ovviamente in piccolo è nella parte alta della pagina però in piccolo perché chiaramente ci sono notizie più importanti ragazzi eh ci sono gli anarchici il nuovo spauracchio di questa settimana allora però ho selezionato solo questa cosa qui sulla prima della stampa sanità in tilt saltano 2,5 milioni di esami per malati oncologici ma come dico io ci hanno fatto due coglioni due palle così da per tre anni negli ultimi tre anni dicendoci che la salute veniva prima di tutto no in realtà non veniva prima di tutto la salute prima di tutto veniva il vaccino mi sembra mi sembra di capire no anche perché lo abbiamo visto mi sembra che prima di tutto qui ci fosse ci fosse il vaccino non so tra l'altro se avete visto se avete visto quello che è successo la notizia che è stata pubblicata in grande in grande chiaramente silenzio anche pubblicata da giornali mainstream però figuriamoci se questo genere di notizie va in prima pagina eh questo l'ho tratto dal sito della stampa ve lo leggo covid e il grande spreco dei vaccini 122 milioni di dosi scadute e rimaste nei magazzini così l'Italia ha buttato 2 miliardi di euro 2 miliardini la pandemia batte in ritirata e gli italiani si vaccinano sempre meno e tutte le dosi comprate in anticipo che fine hanno fatto ecco cosa sta succedendo insomma quindi 122 milioni di dosi ma che ma cosa ma cosa ci aveva ma quanta merda ci puoi avere nel cervello per ma veramente per acquistare così tanto centinaia di milioni di dosi che poi sai che andranno una parte in scadenza ma una parte sai benissimo che i vaccini devono essere aggiornati ogni tot quindi cosa serviva acquistare tutto tutte queste milioni di dosi centinaia di milioni di dosi scadute peraltro buttando due miliardi io spero che chiaramente intervenga la corte dei conti e chieda spiegazioni a speranza e a draghi dubito che questo avvenga purtroppo però qualche magistrato magari diciamo illuminato magari potrà intervenire spero spero io visto questo quindi tornando al discorso hanno buttato nella spazzatura due miliardi di euro in questo specifico caso però la sanità è in tilt e saltano 2,5 milioni di esami per malati oncologici e anche qui possiamo chiudere il capitolo della salute prima di tutto con cui ci hanno fatto due palle così hanno impedito a gente di lavorare di ricevere lo stipendio di vivere serenamente hanno escluso bambini studenti dagli autobus hanno cioè robe robe da 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 discriminazioni veramente assurde allora passiamo sulla prima del sole 24 ore sulla stampa non c'era nient'altro di rilevante per quanto mi riguarda sulla prima del sole 24 ore si parla dei bonus casa fermi 15 miliardi di crediti e il titolo a rischio 25 mila imprese dell'edilizia i crediti fiscali relativi ai bonus casa attualmente bloccati hanno raggiunto i 15 miliardi di euro ciò si traduce nel rischio di fallimento per 25 mila imprese e in 130 mila disoccupati potenziali nel settore costruzioni le stime allarmanti sono del lance che rilancia il pressing sul governo per un nuovo intervento sui crediti la cui cessione è bloccata questo mentre Eurostat aggiorna le sue regole contabili con un'interpretazione che renderà più difficile in futuro la cessione dei crediti quindi caro governo datti una mossa pensa meno agli anarchici tra l'altro ieri sera ragazzi cioè Giorgia Meloni è intervenuta telefonicamente durante una trasmissione non dico quale per non fare pubblicità chiaramente una trasmissione in prima serata per dire la sua sulla questione anarchici ora veramente ma non ci sono altri problemi in Italia dico io per esempio questo potrebbe essere un ottimo problema da affrontare immediatamente dal governo che si dia una mossa che si dia una mossa l'altra questione riguarda l'Unione Europea che punta 245 miliardi sul piano Industria Green scrive il titolo del Sole 24 Ore aiuti di Stato più flessibili la Commissione dice un fondo sovrano prima dell'estate vabbè vedremo vedremo anche questi sono annunci che restano lì e intanto il governo boccia la proposta della Commissione Europea compromette il mercato interno sì perché questi aiuti di Stato poi diciamo per come sarebbero conformati sembrerebbe che andrebbero a vantaggio ma naturalmente ma chi poteva pensare il contrario di Francia e Germania quindi vediamo 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 poi c'è l'analisi di Adriana Cerretelli sempre su questo tema senza solidarietà Industria europea in difficoltà l'altra cosa che ho selezionato sulla prima del sole riguarda i tassi di interesse perché la Fed alza i tassi del 0,25% Wall Street festeggia il titolo la Fed alza i tassi dello 0,25% che salgono ai massimi dal 2007 il costo del denaro va al 4,75% dopo una sbandata iniziale salgono Wall Street e Nasdaq i mercati temevano toni ancora più duri previsti altri due rialzi gli obiettivi massima occupazione e inflazione al 2% e la BCE naturalmente poteva essere da meno poteva non seguire la Fed e no ovviamente perché oggi è atteso un rialzo dello 0,5% 50 punti base insomma vedremo è giovedì vedremo se sarà annunciato questo aumento perché oggi ci sarà la conferenza la tradizionale conferenza stampa di inizio mese della Banca Centrale Europea sentiremo cosa dirà la Lagarde e vedremo se insomma ha capito dagli errori precedenti insomma visto che gli annunci fatti in precedenza non è che avessero portato tanta serenità sui mercati vedremo 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 l'inflazione al più 0,2% mensile a gennaio rallenta la corsa dei prezzi vabbè anche questo è un dato in divenire vedremo come andrà a finire per quanto riguarda invece un'altra parte di mondo che spesso diciamo viene ignorata ma che è ben presente esiste e come se esiste che è l'India India dopo due anni di sviluppo record 549 miliardi di dollari per crescere ancora la sfida del premier Modi la maggior crescita al mondo per il secondo anno di fila per l'India l'India è la quinta economia mondiale ora come anche qui leghiamo anche questo aspetto alla propaganda che ci è stata propinata che ci sta ancora diciamo che sta ancora martellando sulla questione della Russia isolata la Russia non è per niente isolata l'India la quinta economia mondiale ci dice qua stamani il sole 24 ore sviluppo record negli ultimi due anni eccetera è uno dei principali alleati della Russia di Putin cioè quindi smettiamola smettiamola cari amici giornalisti cari colleghi giornalisti di scrivere che Putin è isolato Putin non è isolato per nulla per nulla mettetevelo bene in testa invece su Libero si su Libero ho selezionato solo questa notizia che più che altro è una notizia di servizio cerca di farcela passare Libero come un successo del governo di Giorgia Meloni in realtà ovviamente in questo senso non c'entra nulla il governo di Giorgia Meloni il titolo è giù l'inflazione e oggi calano pure le bollette chiaramente Libero anche stamani apre grandissima apertura sulla questione degli anarchici e tutto quello che ci sta ci sta intorno tutte le diatribe politiche tra PD eccetera eccetera vabbè comunque torniamo a questa questa questione giù l'inflazione oggi calano pure le bollette scrive scrive il titolo di Libero in attesa dell'annuncio che arriverà oggi dalla Rera e che tutti aspettavamo di un taglio della bolletta del gas che il ministro dell'economia Giorgetti continua a quantificare nel 40% il carro vita allenta la presa e l'industria manifatturiera torna a dare segni di vitalità quindi sul gas sarebbe atteso questo taglio del 40% vabbè speriamo ovviamente non è chiaramente un merito questo del governo di Giorgia Meloni anche perché abbiamo visto ci siamo salvati tra virgolette grazie alle temperature grazie all'inverno che non è stato per nulla rigido almeno per il momento quindi diciamo che il prezzo del gas ha avuto un calo sensibile da questo e anche dal fatto che le imprese purtroppo tante imprese hanno ridotto i consumi quindi riducendo i consumi riducono la produzione riducendo la produzione poi insomma riducono anche le proprie entrate di fatto quindi anche questi aspetti sono da valutare come appunto parlavamo abbiamo parlato insomma abbiamo detto spesso con con il nostro amico esperto di questioni energetiche Antonio Rizzo tra l'altro tutte le altre tutte le interviste che gli abbiamo fatto sono sia sui nostri canali diciamo facebook youtube ma in versione audio sono anche in podcast come questo podcast appunto che si può ascoltare su su spotify su amazon music su apple podcast su google podcast insomma su tutti i servizi podcast ci siamo ok quindi ci potete sentire dove vi torna più comodo passiamo sulla prima del fatto quotidiano dove andiamo a riprendere un po' la notizia con cui diciamo abbiamo aperto che è relativa all'invio di questi missili da parte degli stati uniti questo annuncio questo ennesimo annuncio di fornitura di missili a kiev il titolo del fatto quotidiano che si trova sulla colonna di sinistra della prima pagina dice usa missili sbagliati lite biden pentagono pronti altri 2 miliardi di dollari in aiuti militari con i razzi detti glsdb 40 mila 40 mila dollari a pezzo che però non sono immediatamente disponibili naturalmente e quindi sono e comunque sono missili dice il fatto quotidiano diversi da quelli che avrebbe chiesto kiev intanto il costituzionalista azzariti dice l'italia da un anno rifiuta la pace e stravolge la carta la carta intesa come la costituzione la costituzione io direi sì sulla questione guerra sì magari è stravolta la costituzione da un anno a questa parte però diciamo che non solo da un anno a questa parte la costituzione è stata stravolta in maniera palese ed evidente mi pare no viste le restrizioni discriminatorie le leggi discriminatorie a cui siamo stati sottoposti negli ultimi due anni insomma da dal 2020 al 2022 un periodo che una insomma normativa che speriamo di non vedere mai più però insomma per non vederla mai più serve una presa di coscienza e questa presa di coscienza da parte dell'opinione della maggioranza purtroppo dell'opinione pubblica grazie insomma alla nostra meravigliosa stampa non è stata ancora raggiunta andiamo invece vabbè chiaramente la grande fotonotizia centropagina come apertura la dedica a cospito anche il fatto quotidiano purtroppo ma non c'è altro di cui parlare cioè ci deve essere ci devono essere gli anarchici da tutte le parti il nuovo spauracchio ora si chiamano anarchici vabbè prima si chiamava non so se vi ricordate fino a poche settimane fa era l'ondata covid cinese era lo spauracchio vi ricordate poi non se ne è più sentito parlare chissà come mai perché chiaramente quell'ondata si è sgonfiata non c'è non c'è non c'è non c'è stato più diciamo da quel punto di vista lì nessun nessun grosso problema e ovviamente figuriamoci se i nostri giornali poi ce lo dicono le nostre televisioni ce lo dicono ci hanno fatto due coglioni così per tenersi per tenere alta la paura l'attenzione il terrore su questo su questo dato poi alla fine si è sgonfiato tutto come una bolla di sapone allora invece invece la notizia che ho selezionato riguarda sempre la sanità riprendiamo un attimo il capitolo sanità riapriamo un attimo il capitolo la salute prima di tutto perché qui il fatto quotidiano ci dice sanità povera e liste d'attesa uno su tre fa la polizza privata l'onda lunga del covid è il sopratitolo diciamo così uno su tre fa la polizza privata quindi fa l'assicurazione privata sulla sanità ed è purtroppo ragazzi questa è il è il è il tracciato segnato segnato impostoci chiaramente da Bruxelles e ancora sopra da Washington che la sanità pubblica deve essere smantellata cioè questo è il il dato questo è il è l'impostazione non a caso non a caso l'unione europea ha mandato tantissime raccomandazioni negli ultimi anni al governo italiano dicendo di tagliare la sanità di incentivare le la sanità privata eccetera eccetera quindi tra l'altro anche su questo ci abbiamo fatto un video specifico che si trova nel nostro archivio video su facebook quindi andatevelo a vedere se siete interessati e vedere quello che l'unione europea ha inviato all'italia negli anni sono tipo 6 7 8 raccomandazioni in media all'anno in cui si diceva che cosa bisognava fare appunto sulla sanità sui servizi sociali eccetera eccetera e questi sono i risultati che un italiano su tre fa la polizza privata perché chiaramente la sanità pubblica non riesce a soddisfare i bisogni degli italiani e quindi mettiamola dentro anche questa il capitolo la salute prima di tutto ma cosa hanno fatto negli ultimi tre anni visto quello che è successo alla sanità pubblica cosa hanno fatto niente non hanno fatto nulla non hanno fatto nulla hanno detto solo la salute prima di tutto e ricattato la gente a partecipare a una campagna di vaccinazione sperimentale che resta una roba sperimentale ricordiamolo ricordiamolo TSO sperimentali trattamenti sanitari obbligatori sperimentali è quello a cui siamo stati sottoposti chiudiamo con la verità qui chiaramente si parla ancora del in apertura sulla questione cospito e anarchici gli utili idioti dell'eversione a che gioco giocano i democratici riferiti al partito democratico ma non ci voglio stare più di tanto perché a centro e fondo pagina ci sono diversi ci sono quattro articoli stamani che voglio segnalare dalla verità che sono piuttosto interessanti riprendiamo il capitolo sanità perché anche qui si parla di questioni sanitarie è il titolo che resta a centro pagina che prende uno due tre quattro cinque colonne quindi insomma è una pagina da sei colonne quindi una grossa parte della prima pagina è Novax la guardia medica rifiuta le cure è il titolo la sulmona una trentenne in preda a forti dolori non è stata assistita perché al telefono aveva detto di non aver fatto l'iniezione cioè il vaccino anti covid lo stato d'emergenza è terminato un anno fa ma nella testa di certe persone non finirà mai e purtroppo è quello che dicevo prima purtroppo grazie ai nostri media mainstream soprattutto nostra televisione i nostri giornali i nostri giornaloni purtroppo questo ha fatto malissimo alla testa delle persone purtroppo ci si trova davanti anche a volte questi medici che stento a definire medici perché se una persona chiama un medico che ha bisogno il medico deve intervenire non deve sapere non deve mettere in ballo nessuna questione su come la penso io politicamente o anche relativamente alla questione vaccini assolutamente non deve essere questo da considerare quando un medico cioè un medico vero dovrebbe ragionare in questi in questi termini qua però purtroppo il lavaggio del cervello che è stato fatto negli ultimi anni ci sta portando a queste storture totali a queste discriminazioni vergognose a quasi un anno dalla fine dello stato di emergenza scrive l'articolo della verità ci sono medici che si rifiutano di curare i non vaccinati ha sul mona una trentenne in preda dolori atroci si è sentita sbattere il telefono in faccia dalla guardia medica non vengo a casa tua perché non hai fatto il vaccino è solo l'ultimo caso di una lunga serie di una lunga serie purtroppo sempre sulla questione sulla questione virus e vaccini per non ammettere i loro errori le Virostar ormai scalano gli specchi si arrampicano sugli specchi insomma dice la verità autocritiche in Germania ma qui da noi no il ministro tedesco della salute ammette che chiudere le scuole fu un errore qui ci limitiamo a contare i danni delle serrate denunciati vanamente dai presidi intanto Roberto Burioni prosegue la sua crociata contro Novak Djokovic e sulla stampa parte il pianto greco per la possibile cacciata di Franco Locatelli un altro di quelli che abbiamo imparato a conoscere purtroppo negli ultimi anni l'altra cosa l'altra cosa che volevo evidenziare riguarda la questione delle esenzioni di uno degli ultimi regalini che ci sta confezionando l'Unione Europea per quanto riguarda l'efficienza energetica delle case una trappola le esenzioni dell'Unione Europea sulle case green è il titolo valgono solo per le villette monofamiliari da 50 metri quadrati che non esistono cioè sostanzialmente l'Unione Europea ci dice che ci dirà probabilmente che questi obblighi di mettere in efficienza energetica gli edifici potranno non essere utilizzati in qualche modo potranno non valere per le villette monofamiliari da 50 metri quadrati che di fatto dice la verità non esistono non esistono chiudiamo con la questione si parla ancora di sanzioni sulla prima della verità col pezzo di Francesco Borgonovo le sanzioni tra virgolette decisive e altre balle su Putin è sempre pensiero magico eh sì purtroppo siamo sempre lì col conto come c'era il pensiero magico prima sui vaccini sulla campagna vaccinale contro il covid naturalmente sto parlando sempre eccetera ora il pensiero magico viene applicato anche su Putin insomma è un anno che va avanti così e scrive scrive Borgonovo Repubblica si autosmentisce ammette che l'economia russa non sta crollando sotto il peso delle sanzioni e questo ne abbiamo già parlato anche ieri di questa cosa qua retromarcia che segue quelle sullo sgretolamento dell'esercito e sull'impatto dei leopard tra l'altro per quanto riguarda l'esercito ucraino si sta ovviamente sgretolando non ce lo dicono però sta succedendo questo e vogliono sembra che vogliano arruolare anche i disabili cioè siamo veramente siamo veramente alla alla follia ma in Italia si continua a ricorrere a retorica scrive Borgonovo il pensiero magico sulla guerra invece di guardare in faccia la realtà e purtroppo purtroppo questo è ed è la ragione anche per cui insomma c'è questa rassegna stampa ogni mattina bene mi sembra che non ci sia altro da aggiungere per oggi è tutto questa era la rassegna di giovedì 2 febbraio 2023 da Matteo Bernabè una buona giornata grazie a tutti